buongiorno buongiorno a tutti eccomi con voi con una nuova copertina quest'oggi perché eh voglio aggiornarvi su quello che sta accadendo come sempre ma in particolare affrontare un argomento eh che è molto in voga eh che riguarda eh la possibilità che il Mediterraneo possa essere interessato da eh perturbazioni eh di tipo tropicale come cicloni tropicali o uragani alla luce del fatto che è presente in Atlantico a ovest delle Azzorre un un urogano di categoria uno al momento che è diventato di categoria uno eh denominato Daniel di cui si parla molto e e più in generale è possibile che il Mediterraneo possa essere interessato da eh perturbazioni di questo tipo così violente cos'è un urogano eh o meglio qual è la differenza tra un urogano o ciclone tropicale la stessa cosa ciclone extra extra tropicale anche il mediche nel cosiddetto mediterranea adesso vi farò vedere come dalle carte il nostro postenso si evinca molto facilmente eh eh quale sia eh quale la traiettoria e la destinazione che avrà questo uragano che verrà come eh quasi eh sempre cioè o meglio come la la totalità dei casi è ehm avviene verrà riassorbito dal flusso atlantico a poco a poco si trasformerà in una in perturbazioni extratropicale eh andando a rafforzare il flusso atlantico eh per una serie di motivazioni termodinamiche anche di circolazione generale eh alle medie latitudine che è diversa da quella delle delle latitudini tropicali e e soprattutto è diverso il potenziale energetico del eh in termini di temperatura di mare. Vi faccio subito vedere cosa accade oggi innanzitutto e approfitteremo anche poi ovviamente per dare uno sguardo. Questa è la nostra immagine satellitare usuale eh c'è questa intensa depressione atlantica che inizia a diciamo a dimostrare come eh il flusso atlantico stia rafforzando e stiamo ormai arrivando nella stagione autunnale la stagione fredda il semestre freddo ma poi vediamo meglio cosa sta accadendo in più a larga scala eccolo qua quella è la perturbazione che vedevate prima e questo guardatelo eccolo qui aspettate che ho zoomato troppo eccolo qua guardate che bello questo è un uragano tropicale è diventato di categoria uno perché come tutti i percorso che generalmente ehm diciamo fanno tutti gli uragani che riescono a giungere nelle vicenze della dell'Europa si formano in questa fascia qui dentro eh equatoriale quasi a largo della delle coste dell'Africa qui se ne sta formando un altro eh non so il nome ma ve lo dirò tra un po' arrivano ai Caraibi si raggiungono la massima potenza nel golfo del Messico dopodiché vedete la la virano in vario modo verso nord-est e giungono generalmente ormai ehm diciamo completamente spompati per così dire come tempesti tropicali in eh in mezzo all'Atlantica all' 32 inferiori al quarantissimo parallelo e poi si dirigono verso le nostre regioni dove vengono riassorbiti dal flusso atlantico e vi faccio vedere adesso vi faccio vedere adesso dalle carte il nostro possesso come cambia come diventa diventerà cosa diventerà questo uragano usate l'ho tolto ma invece mi serve questa allora eccolo qua poi vi farò vedere gli slide nel dettaglio allora l'uregano eccolo qui guardatelo questa è la carta eh le pressioni al suolo indicano le mie bianche guardate cosa succede tenetelo ben presente guardate l'Italia con questa bassa pressione vedete come si sposta gradualmente verso nord-est questa bassa pressione interesserà l'Italia ci sarà un peggioramento del tempo eh tra tra il nove e il dieci poi attenzione a quello che è successo eccolo qua l'uragano viene assorbito da una cellula fredda eh proveniente dalla dalle regioni polari e diventa una perturbazione extratropicale cioè con un fronte freddo un fronte caldo e successivamente però arriverà nelle nostre regioni e perché arriverà la saccatura fredda guardate che bella saccatura dalla parte del vortice polare direttamente connessa al vortice polare quindi con maltempo nelle nostre regioni dopo metà eh mese ma arriverà come normale perturbazione extratropicale a cui siamo abituati ve lo faccio vedere poi i miei step per per sancire bene tutti i passaggi fate attenzione a cosa succede all'uragano allora eccolo qua questo è l'uragano Daniel attualmente questa è la bassa pressione questa è la rimonta calda che ci sarà che inizia esserci in questi giorni guardate questo è il cinque settembre siamo al nove settembre eccolo qua il momento cruciale Daniel è risalito si sta trasformando vedete le isobare non sono più perfettamente circolari qui c'è questa bassa pressione che lo va riassorbire da noi arriva una saccatura un cavo d'onda che non c'entra con l'uragano e successivamente eccolo qua Daniele è stato riassorbito viene preso in carico da questa eh eh questa insaccatura questo peggioramento che proviene direttamente dalle regioni polari intorno prima di metà mese e diventerà una perturbazione una normale perturbazione extratropicale allora che cosa vuol dire non ha nessuna influenza in questo tipo di uragano innanzitutto ce l'ha nella circolazione generale perché eh in termini di vorticità modifica quella che può essere anche l'arrivo delle delle nostre perturbazioni in termini di localizzazione in termini di intensità delle perturbazioni stesse può fornire un contributo ma ben inteso eh nella stragrande maggioranza dei casi arrivano delle normali perturbazioni magari anche intense intensificate dal contributo in termini di vorticità di energia che che può fornire l'uragano e ci arriva un bel peggioramento nelle nostre regioni in cui è stato assorbito l'uragano ma non arriva l'uragano perlomeno c'è molto da discutere poi sul fatto che adesso le temperature sono più caldi che il mediterraneo può può dare a una forza tale da rinvigorire queste perturbazioni eh tropicali ma al momento non si vince da quello che dicono le carri e e l'uragano è ben diverso dal medicaine che è un mediterranean Harry Kane sarebbe l'acronimo e che generalmente è una perturbazione extratropicale una normale perturbazione che diventa poi un uragano in termini di eh geometria in termini di venti ma ne parleremo un'altra volta per adesso quello che l'uragano Daniel arriverà in Europa si arriverà rafforzerà probabilmente quelle che sono le perturbazioni esistente nel flusso atlantico e arriverà forse anche nel mediterraneo in termini di una normale saccatura atlantica in termini comunque con un peggioramento che potrebbe essere anche abbastanza intenso e che io comunque eh nelle linee guida generale ho preannunciato da tempo il fatto che comunque settembre sarebbe stato molto più instabile rispetto a quanto visto finora. Un abbraccio a tutti ci risentiamo dopo nel frattempo seguite Meteoscienza iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Ciao 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 ciao